Dopo aver studiato lettere e filosofia alla sapienza, Luca Ragazzi si è iscritto, nel 1996, all'Ordine dei giornalisti e si è occupato di critica cinematografica. Nel 1999, intraprende la sua relazione sentimentale con Gustavo Offer con il quale collaborerà sia come regista che come sceneggiatore, Claudio Bonivento, nel 2000, gli assegna una piccola parte nel film Le Giraffe, con Sabrina Ferilli e Veronica Pivetti. Nel 2008, Luca Ragazzi a codiretto, con Gustavo Offer, il documentario improvvisamente l'inverno scorso, incentrato sul tema dell'omosessualità che gli ha permesso di ottenere successo a livello internazionale, infatti, per questa pellicola, presentata al Festival Internazionale del Cinema di Berlino del 2008, ha ottenuto la menzione speciale del premio della giuria Manfred Saldjeber e Il nastro d'argento, come miglior documentario nel 2009, sempre con Gustavo Offer. Nel 2011, ha diretto e sceneggiato il documentario Italy. Love It, Orleave It, presentato al Milano Film Festival.